La tutela dell'ambiente e la preoccupazione per gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sugli stati del Pacifico sono stati al centro del colloquio di Papa Francesco con il Presidente della Repubblica di Kiribati, Anote Tong, che in seguito ha incontrato anche il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dall'Arcivescovo Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Riguardo al problema dei cambiamenti climatici si è formulato l'auspicio che in occasione della COP21 prevista a Parigi nel dicembre del 2015 la comunità internazionale possa adottare misure condivise ed efficaci per affrontare tale sfida.